amici ed amiche di juventus una signora per due buon mercoledì a tutti è il giorno della il giorno della finale finale di coppa italia una finale che da quello che vedo sento leggo constato non mi pare che scateni una particolare fibrillazione non non sente intorno a me e nemmeno dentro di me una particolare trepidazione per questa partita forse per veramente l'eccesso l'accumulo di eccessiva stanchezza di una stagione ecco comunque fallimentare indipendentemente da come andrà questa da come andrà questa partita e perché ritengo questo questo rilevato che molti fosse la maggior parte ecco delle persone che hanno a cuore la juventus siano già siano già proiettate oltre verso la juventus che verrà verso la juventus ecco che comincerà davvero adesso che ha targata giuntoli e rilevo appunto ecco una voglia di lasciarsi di lasciarsi alle spalle questo questo atto un atto che decreterà certamente la fine di un'era di un bruttissimo di un bruttissimo ciclo ecco dove si paragonare a questa finale ad un altro all'evento che più lei consono mi viene in mente mi vengono in i funerali all'americana ecco non so se li avete certamente qualcuno di voi li avrà li avrà visti se non altro nei nei film no quei funerali dove si respira una ecco un'aria di composta festosità non disgiunta da risvolti di carattere religioso in quanto vengono vissuti come la ecco la celebrazione della fine in qualche modo di questo percorso che accidentato che la vita e che e quindi si accompagna il defunto verso quello che un almeno della supposizione un un destino una vita migliore il tutto con musica di sottofondo e questa sera sarà cantata ad albano con con intrattenimento con tutti i criteri di un party ognuno porta ognuno porta qualcosa ecco a me questo paragone sembra estremamente calzante perché proprio perché questa sera ecco assisteremo alla alla celebrazione di un atto finale che non è solo lato di una coppa ma è lato di un lato di un percorso che abbiamo tutti voglia di dimenticare in fretta dopodiché è certamente meglio non voglio parafrasare a catalano ma è certamente meglio vincere anziché perdere ed obbligo precisare che sull'albo d'oro qualora si dovesse vincere ci sarà scritto juventus e non il cognome di una persona e ove insomma ragionevolmente stando quello che il campo ha evidenziato da questa parte ecco le speranze di vittoria ecco non sono particolarmente non sono particolarmente elevate da una parte c'è anzi c'è un qualcosa che non si sa bene che cosa sia forse ecco forse sarebbe più preciso dire che sappiamo quello che non è la juventus cioè non è una squadra non nulla di quello che dovrebbe avere una squadra e dall'altra invece c'è c'è un blocco compatto che gioca un calcio europeo estremamente motivato estremamente fiducioso delle proprie capacità e potenzialità un gruppo che sta bene ecco fisicamente è certamente generalizzato da aver raggiunto queste due finali oltre a quella di coppa italia naturalmente anche quella di anche quella di europa league ecco teoricamente parrebbe non esserci partita però 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 le finali molte volte e lo sappiamo benissimo l'abbiamo provato sulla nostra pelle non sempre premiano la squadra più forte non sempre sorridono alla squadra alla squadra migliore e pertanto quando si dice termini di pronostico che si parte con il 50 per cento di probabilità non è del tutto non è del tutto sbagliato certo è che bisognerà essere molto molto convincenti con i dettagli per cercare di portarli dalla nostra parte sinceramente non vedo all'interno della juventus nessuno particolarmente abile e così è così convincente da riuscire da riuscire a a convincere un palla a sorriderci non importa comunque vada comunque vada l'importante riportate che finisca dopo di che è vero anche perché insomma l'obiettivo principale quello vero e per una volta in conferenza è stato detto il giusto a questo riguardo era l'accesso alla alla qualificazione alla coppa con le grandi con le grandi orecchie ma questo ecco non vorrei che poi diventasse un alibi e venisse adotto ad appagamento non non mi è piaciuto nel momento in cui si è parlato di ecco di ultima finale per molti al di là dell'aria di smobilizzazione che evidentemente tira e non potrebbe essere diversamente sembra quasi che la juventus stia per disputare una finale di coppa del mondo quindi di un evento unico e abbastanza normalmente irripetibile stiamo parlando di una finale di una coppa nazionale alla quale si è arrivati battendo le riserve di salernità nel frosinone e in doppia partita una squadra che aveva appena cambiata allenatore giocando le tre in casa ora oggettivamente non possiamo definirlo un percorso straordinario una cavalcata inarrestabile da tramandare ai posteri magari accompagnata da una colonna sonora vagneriana se possibile prendiamoci questa ecco piccola soddisfazione se verrà festeggiamola con un bicchiere d'acqua minerale frizzante ma il domani il domani e addirittura è ancora più importante di quello che accadrà stasera a prescindere da tutto forza juve e un proseguimento di giornata e buona partita a tutti che la forza sia con voi